Ben ritrovati a tutti, sono Meteo Giuliaci da Andrea Raggini. I prossimi giorni nella nostra penisola risulteranno particolarmente tranquilli, ad esclusione di qualche settore del Medio-Basso Adriatico e alcune zone del centro-sud. Per il continuo afflusso di aria più fresca da est-nord-est, che determinerà nella giornata di giovedì e in parte anche di quella di venerdì, cieli grigi tra le Marche, ma soprattutto Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale e le zone interne di Campania e Basilicata, con qualche goccia di pioggia e qualche breve nevicata sull'Appennino, oltre i 1000-1200 metri di quota. Durante la giornata di giovedì e in parte anche di quella di venerdì, avremo cieli grigi anche su parte della Calabria e della Sicilia settentrionale con qualche debole precipitazione. Ventilazione da nord a mare, che risulterà a tratti mosso soprattutto al centro-sud. Sul resto della nostra penisola cieli azzurri o poco volosi, in particolar modo sul nord Italia, Toscana, Lazio e parte della Sardegna, ma attenzione in pianura padana, perché aumenteranno le nebbie e nubi basse che potrebbero localmente persistere per buona parte della giornata, in particolar modo tra Lombardia ed Emilia. Temperature minime sotto lo zero al nord Italia e in alcune vallate del centro, mentre le temperature massime saranno comprese tra 4 e 9 gradi al centro-nord, valori localmente superiori sulle zone tirreniche e sulle isole, in calo invece tra Abruzzo, Molise, le zone interne della Campania e soprattutto la Puglia. Poi, nella giornata di sabato, aumenteranno le nebbie sulla pianura padana e continuerà l'afflusso di aria fresca, ma si intensificherà il freddo al centro-sud, quindi la quota neve scenderà tra Puglia, Molise, Abruzzo e le zone interne della Basilicata, anche sotto i 500 metri di quota. Per maggiori dettagli consultate il sito metogiuliaci.it da Andrea Raggini. Buon proseguimento!